questo è lo stadio tardino questa è la casa del parma ma soprattutto dei suoi tifosi questa è l'arena giallo blu io sono francesca de vincenzi vi terrò compagnia tutti i lunedì ma non sarò sola con me aurora levati e ariana anelli ferma tutto questa francesca è una trasmissione tutto il femminile manca il toro televisivo ma ci sei tu enrico boni e allora io chi sono ditemi chi sono ma il nostro torero roberto battarelli ne vedremo delle belle tanti commenti interviste tutto quello che succede per la calcio